Ho letto oggi sui giornali che io scaricherei, caccerei, io ho detto una cosa chiara, che io i deputati non li nomino e per l'Italia che ho in testa io, i deputati non li deve nominare né Berlusconi, né Grillo, né Renzi, né Bersani. Quanto poi a quel che ho letto su D'Alema, forse può anche essere che lo conosca poco, io lo conosco bene, sono sicuro che sul concetto di rottamazione combatte fino alla morte, ma sul concetto di rinnovamento sono sicuro che c'è e quindi noi faremo il rinnovamento lavorando tutti assieme.